Il Volley Serie A2, grandissima prestazione della Molini Spoleto che batte nettamente Castellana Grotte nella quarta gara della Serie Play-Off per accedere in Superlega e domenica si giocherà il punto decisivo proprio in Puglia. Grande prova dei ragazzi di Provvedi che vincono senza storia per 3-7-0. Basta poco più di un'ora e 20 di gioco per demolire le resistenze avversarie. Spettacolare la prova del gruppo, in particolare quella di Morelli. La serie di partite che vagano l'accesso alla massima serie è ora sul 2-2, domenica alle 18, la sfida decisiva.